Un focolaio nel reparto gastroenterologia ed endoscopia dei riuniti di Foggia, il coronavirus torna a correre anche in corsia. Oggi sono previsti tamponi a tutto il comparto medico ed infermieristico e si cerca di risalire la catena di contagio. Ogni paziente, secondo la prassi, prima del ricovero viene sottoposto a tampone. Nel caso specifico, gli esiti in prima battuta sarebbero stati tutti negativi. Probabilmente, stando nelle indiscrezioni, il virus potrebbe essere entrato dall'esterno, visto che sarebbe stato consentito l'accesso ad un parente per ogni degente. Una circostanza su cui adesso i riuniti si sta cercando di fare luce, non escluso, tra l'altro, che la situazione potrebbe trasferirsi in tribunale, considerato che alcuni pazienti sarebbero intenzionati a denunciare l'ospedale dopo i contagi in corsia. I riuniti, come gli altri ospedali del mezzogiorno e non solo, convivono con difficoltà oggettive, carenza di personale e soprattutto di posti letto, mentre la terapia intensiva è ormai satura, con i nuovi pazienti covid in severe condizioni trasportati in altre strutture pugliesi. Così come su ordine della Regione Puglia sono sospesi tutti i ricoveri programmati. La situazione sembra essere esplosiva, occhi puntati, quindi, sulla gestione degli accessi al policlinico. Il nuovo focolaio e i riuniti mette in luce i limiti degli ospedali nell'emergenza coronavirus.